Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un database semplice ma potente per Android. Il database, andiamo a vederlo subito, si chiama Binders. Il bello è che Binders è gratuito, poi se si vuole aumentare la potenza dei file in lettura e in scrittura si acquista una licenza per circa 4 o 5 euro a seconda del periodo e dell'offerta che trovate. Però per un uso Home e Small Office si può usare la versione gratuita. Allora apriamo Binders. Ecco qua noi abbiamo già alcuni database fatti ma adesso ne facciamo uno. Vediamo perché è potente ma semplice. Creiamo un piccolo database che però sia relazionale. Quindi premiamo la più in alto e mettiamo il nome del nostro database. Allora scriviamo Banca Dati Clienti. Poi clicchiamo su Conferma. Perfetto. Torniamo indietro ed ecco che vediamo noi abbiamo la nostra Banca Dati Clienti. Al momento ovviamente è vuota. Quindi andiamo a creare, andiamo nelle impostazioni e iniziamo a creare i nostri forms. Noi possiamo avere un forms unico, per esempio nome, cognome, città, partita IVA, codice fiscale, numero di telefono, eccetera, eccetera. E quindi fare un database semplice. Oppure possiamo fare un database relazionale con più forms. Allora iniziamo col primo forms. Aspettate che ho sposto il coso della registrazione. Primo forms. Mettiamo il nome. E la chiamiamo Anagrafica. Anagrafica. Con il nome. Perfetto. Conferma. E noi, portate pazienza, ho cannato un passaggio. Lui all'inizio ci dava la possibilità di avere già il primo field del form, cioè il primo campo da registrare. In questo caso nome, ma potevamo anche escluderlo. Lo faremo col prossimo form che creiamo. Quindi se noi avessimo voluto aggiungere un nuovo forms, facciamo un nuovo forms che mi sono... Noi volessimo fare un nuovo forms, facciamo il forms, lo chiamiamo... Fatture. Vedete che c'è width and name filed. Noi prima l'avevamo dato, era cliccato così, invece noi lo tiriamo via e facciamo il forms fatture. Allora lui ti dice che vuole almeno un campo, un files, ma che comunque è un campo. Allora noi possiamo creare, spostiamo sempre un campo e magari lo creiamo di testo, di data, vogliamo metterci un'immagine, mettiamo un'immagine, perché magari facciamo un pdf o qualcosa e diamo conferma. Ed ecco fatto e vedete che noi adesso abbiamo il nuovo forms. Ma torniamo alla nostra procedura in ordine, quindi abbiamo il primo campo, aggiungiamo un altro campo e sempre selezioniamo testo e facciamo cognome. ho fatto, conferma. Adesso vi faccio un esempio semplice e veloce perché altrimenti diventa una cosa, quindi qui potete aggiungere telefono, codice fiscale, partita IVA eccetera. Nome e cognome, mettiamo adesso un altro campo di testo e selezioniamo per esempio ruolo, facciamo la lettera grande, per esempio sei direttore, manager, qualsiasi altra cosa. Perfetto, adesso aggiungiamo un altro campo, in questo caso facciamo un campo relazionale, selezioniamo linked form o linked forms, cioè il campo può essere un link a un unico form o a più form, in questo caso a un form. Facciamo new form time e mettiamo il nome per esempio compagnia, compagnia, lasciamo many links e abbiamo sempre da spostare il nostro registratore. Perfetto, compagnia, vedete che adesso ci dà anagra, lineta compagnia perché l'abbiamo collegato. Compagnia però non ha nessun form e quindi dovremmo inserirlo. Perfetto, adesso in compagnia, vedete andiamo in compagnia e aggiungiamo un campo. Allora, il campo, mettiamo campo di testo e mettiamo il nome che è sempre compagnia. Conferma, perfetto. Allora, adesso andiamo avanti, torniamo nella nostra anagrafica. Anagrafica, impostazioni e aggiungiamo un altro campo. Questa volta aggiungiamo un altro campo relazionale che sarà, facciamo sempre il linked form, quindi a un form solo, e facciamo il nuovo form e chiamiamolo città. Allora, una volta che abbiamo creato città, clicchiamo sulla rotellina in alto a destra e vediamo che città ha il segnale di problema. Quindi, clicchiamoci sopra e alla città dobbiamo aggiungere ovviamente un campo. Creiamo un campo, sempre testo, con il nome appunto città. Conferma. Perfetto. Benissimo, adesso noi abbiamo, vedete la nostra relazione, la nostra anagrafica è relazionata. con l'arancione compagnia e anche col viola città. Quindi usciamo dalla nostra creazione e possiamo utilizzare, iniziare a utilizzare il nostro database. Clicchiamo su banca dati clienti, su anagrafica e iniziamo a compilare. Per esempio, nome, ciccio, cognome, pasticcio, ruolo, presidente, compagnia. Compagnia. Qua vedete che non avendo nessuna compagnia, noi mettiamo nuovo. Compagnia, gas, gas oil. Perfetto. Città. Anche città ci dà nuovo. Mettiamo Milano. Perfetto. E torniamo indietro. Quindi ciccio, pasticcio, è il presidente della compagnia gas oil ed è di Milano. Facciamo un'altra persona. Facciamo Federico Sapienza. Ruolo CEO. Compagnia, nuovo. Gasprom. Vediamo. Gasprom. Sempre freccetta. Torna indietro. Città. Quindi città. Nuovo. Mettiamo che sia di Venezia in questo caso. Fatto. Quindi noi adesso abbiamo ciccio, pasticcio e Federico Sapienza in anagrafica. Se però, per esempio, noi selezioniamo città e vogliamo vedere che cliente abbiamo Venezia, lui ci dà Federico Sapienza. Cliccando su Federico Sapienza ci dà tutti i suoi dati. Quindi nel caso avessimo fatto più campi, quindi numero di telefono, partita IVA e tutti i vari dati particolari. Torniamo indietro. La stessa cosa noi possiamo fare compagnia. Se noi selezioniamo la compagnia, ho bisogno di un contatto alla Gasprom. Premo Gasprom e ci dà sempre Federico Sapienza che sta a Venezia. Vedete che i campi si sono relazionati. Ma andiamo avanti per fare l'esempio un attimino più complesso. Aggiungiamo un altro nome. Romeo Romeo Fracca Ruolo mettiamo direttore E compagnia selezioniamo di nuovo la Gasprom. Città Mettiamo una nuova città, Brescia. Quindi sempre torno indietro e torno indietro. Adesso aggiungiamo un altro elemento. Giuseppe Non lo so. Io adesso faccio dei nomi a caso. Teodori Ruolo Impiegato Compagnia Mettiamo sempre la Gasprom E città Mettiamo Venezia Perfetto Adesso se noi Cercassimo la compagnia E vogliamo vedere la Gasprom Vediamo che abbiamo tre contatti della Gasprom Uno al CEO Venezia L'altro è impiegato Venezia E l'altro è direttore a Brescia Mi serve il direttore di Brescia Quindi premo E ho qua tutti i dati del direttore di Brescia Torniamo indietro Se invece seleziono Gasol Abbiamo un solo contatto Che è Ciccio Pasticcio Che è presidente a Milano Vedete come è semplice Poi avere tutti i dati particolari Se noi invece volessimo vedere Che contatto o che azienda abbiamo A Venezia Piuttosto che a Milano Piuttosto che a Brescia Cicchiamo su Brescia E vediamo che abbiamo la Gasprom Se noi clicchiamo sulla Gasprom Ci dà i tre contatti che abbiamo della Gasprom Ed ecco come funziona il database relazionale Avete visto che è molto semplice Veloce da compilare Per cui se vi interessa un database gratuito Fra le altre cose Per un uso Home Office Small Office Prendete pure Binders Per Android Cercatelo sullo Store E su Google Store Su Google Play Store Per la precisione E eventualmente poi prendete la versione Pro Che vi sblocca la possibilità Di avere moltissimi file Invece che mi sembra che sia fermo A cento o mille file Adesso non mi ricordo Per questo video è tutto Vi ringrazio di averlo visto Mi raccomando Per voi è gratuito Iscrivetevi al canale Aiutatemi a crescere E mettete un bel like Condividete il video Ci vediamo al prossimo video Ciao da Ermanno Ciao da Ermanno